C'è tempo fino al 3 marzo per partecipare al bando Selezione di Locande per il marchio Locande Cilentane e per usufruire delle opportunità dedicate all'internazionalizzazione delle imprese che fanno parte dell'ambito territoriale del GAL Cilento Regeneratio. Se ne è discusso in un incontro a Piagine sul tema la promozione dell'ospitalità rurale il marchio Locande Cilentane in Europa, dedicato alla promozione del bando per la selezione e la successiva creazione del marchio Locande Cilentane. Un'occasione di sviluppo del turismo rurale in un'area, il Cilento, fortemente penalizzata dalla viabilità che ostacola i grandi flussi turistici ma che induce a puntare maggiormente proprio sullo sviluppo del turismo rurale. La possibilità di sviluppo, noi stiamo cercando di fare tutto quanto quello che c'è possibile e anche oltre. Obiettivamente questo GAL, questa società che mi onoro di rappresentare, ha speso sul territorio complessivo 8 milioni e 6 con i fondi strutturali straordinari 2007-2013. Ma addirittura, di questo ringrazio tutto quanto lo staff del GAL, abbiamo avuto la possibilità, siccome abbiamo impegnato tutto, avevamo su due misure, la 312 e la 313. Avevamo degli overbooking, ci sono stati alcuni GAL che non sono riusciti a spendere tutte le risorse che erano state messe a disposizione. Napoli ce li ha girati a noi, ci ha dato altri 800 mila euro, proprio perché avevamo pratica approvata la regione per 800 mila euro. Quindi stavamo in overbooking per 800 mila euro. Poi è chiaro che stiamo cercando di attrezzarci, se così si può dire, per i fondi straordinari 2014-2020, perché obiettivamente pensiamo e riteniamo di poter fare anche qualcosa in più di quello che abbiamo fatto in questi 5 anni.